A maggior parte i pakistani, la comunità pakistana. Vivono da oltre 20 anni, certamente vivendo qui. Sono anche, giustamente, italiani. Alle 8 di mattina aspo di casa e alle 9 di sera torno a casa. Quando tutto il giorno mi dedico all'ufficio, alle mie attività. A fine settimana ci incontriamo a fine settimana. Se parliamo delle ragazze pakistani, amiche pakistani, qua sono pochissime. Noi ci sono. Ci sono pochissime. O quello che ci sono, ci sono tutte casalinghe che stanno a casa con la famiglia. Tua sorella, per esempio, esce con gli amici? Cioè, scusami? Io esco con gli amici? No, tua sorella esce con gli amici. Tua sorella? Ah, ok. Ah, sua sorella. No, lei spesso... Anche lei sta a casa. No, perché a lei sinceramente non piace tanto uscire. A lei non piace. O esce e va con la famiglia. Un fratello con la tua famiglia. sono bellezza. Una bebia. Grazie.